Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro è l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza indipendenza Castrovillari. Alla presenza dei sindaci di oltre 50 comuni da Rocca Imperiale sull'Alto Ionio fino a Scalea sull'Alto Tirreno con Castrovillari Comune Capofila, insieme a loro un partenariato di grande respiro che vede al suo interno la provincia di Cosenza, il Parco Nazionale del Pollino, il distretto rurale e quello agroalimentare di qualità, ma anche la sovrintendenza dei beni culturali ed archeologici e la diocesi di Cassano all'Ionio ed Italia Lavoro, è stata sottoscritta la Convenzione per il Piano Locale per il Lavoro denominato Neos Polis. La sigla avvia l'opportunità per promuovere forme di lavoro legate a quella crescita sostenibile scelta dalle popolazioni del comprensorio per il loro sviluppo, così l'assessore Giovanna Castagnaro qualche giorno fa, in occasione del workshop presso il protoconvento francescano. 750 manifestazioni di interesse, 1.350 persone coinvolte, 80 partner istituzionali, 500 posti di lavoro, 4.995.000 euro di risorse per cui si gareggia. Questi i numeri. Sindaco, dopo la firma, quale sarà il passaggio successivo? Beh, innanzitutto aver messo insieme tutti questi soggetti, 88 partner istituzionali, 1.350 soggetti coinvolti, circa 500 posti realizzabili con i PLL e una richiesta di contributi di 5 milioni di euro. Noi domani presenteremo questo bel progetto realizzato dal Galleghe, il nostro braccio progettuale di questo partenariato abbastanza vasto e ci candidiamo, ripeto, per la qualità dei soggetti messi in campo e per la qualità del progetto ad essere finanziabili e quindi a breve a realizzare questa opportunità di lavoro per tutto questo vasto territorio che va dall'Oionio fino al terreno passando per Cassovinna. Già in campagna elettorale parlavate di questo filo rosso tra il Pollino e il Tirreno. Ci siete riusciti? Ci siamo riusciti per questo primo appuntamento. Noi riteniamo che il futuro sia nell'aggregazione territoriale. Soltanto un territorio unito, coeso, può far valere quelle che sono le particolarità, le specificità, le ricchezze e soprattutto la forza di un territorio che davvero, mettendo insieme Ionio, Tirreno e il Pollino, ha da offrire da tutto da un punto di vista dell'agricoltura, da un punto di vista turistica, da un punto di vista della qualità della vita e della qualità ambientale. Ecco perché abbiamo coinvolto i soggetti privati che operano in questi settori cercando di creare professionalità per valorizzare ancora di più i settori trenanti della nostra economia. Ecco perché abbiamo coinvolto i soggetti privati che operano in questi settori trenanti della nostra economia.